Oppenheimer è veramente il film più bello di Christopher Nolan? Sono diventato morte, il distruttore dei mondi. Con queste parole Robert Oppenheimer esordisce nella dichiarazione sulla bomba atomica da lui creata, si accorge in quel momento di essere stato l'autore di una delle armi di istruzione di massa più potente che la storia abbia visto sulla faccia della Terra, fino a quel momento. Non era sicuramente facile creare un film dedicato alla nascita della bomba atomica senza scendere in tecnicismi, risultando in questo modo noiosi alla maggior parte del pubblico, a meno che non si è scienziati. Quindi Christopher Nolan ha ideato un meccanismo che rende dinamici i dialoghi con un montaggio dinamico appunto alternato a scene degli atomi che si infrangono e della realizzazione appunto della fusione e della fissione nucleare. Grazie a questo il pubblico rimane sicuramente attento, ma inserendo delle esplosioni che stanno a significare le diverse reazioni che avvengono durante la fusione nucleare, si rimane attivi e soprattutto svegli per i più pigri. Perché quelle esplosioni che avvengono all'improvviso durante i dialoghi possono risultare in quel momento improvviso e far saltare molti spettatori dalla serie. Innanzitutto partiamo col dire che secondo me Oppenheimer è veramente il miglior film di Christopher Nolan, meglio di molti altri sicuramente se non il migliore, ma questo sarà il tempo a raccontarcelo perché il tempo è quello che fa di un film un capolavoro. Secondo me Oppenheimer riesce in quello che non è riuscito a fare Interstellar perché quando si spiega determinati calcoli Oppenheimer fa quello che Interstellar non è riuscito a fare, ovvero non annoia il pubblico nella parte centrale, soprattutto quando si spiegano i spazi temporali e quello che accade dentro un buco nero. Il film si svolge su due diverse linee di racconto e il cast è eccezionale, ha fatto veramente una grande interpretazione partendo da Cillian Murphy fino ad arrivare a Robert Downey Jr., ma anche Florence Pugh e tutti gli altri attori che hanno partecipato al film sono stati veramente veramente bravi. Ormai Christopher Nolan è una garanzia di qualità e quindi anche per una piccola parte molti attori decidono di partecipare soltanto per comparire pochi minuti sullo schermo. Due diverse linee di trama raccontano appunto i fatti vissuti da Robert Oppenheimer interpretato da Cillian Murphy e si inizia il film con l'esplosione già avvenuta e questo processo farsa dedicato appunto a Oppenheimer, creato poi come vedremo in un finale in crescendo che si svolge tutto in tribunale. La parte in bianco e nero dedicata soprattutto a Louis Strauss, il personaggio di Robert Downey Jr., è veramente una di quelle più interessanti del film, nonostante la parte dell'esplosione della bomba sia il punto più alto della pellicola e quello che tutti attendevano. Non era facile interpretare quel Robert Oppenheimer e scendere nel tipico racconto pro-America che vince la guerra senza dubbi e senza incertezze dopo aver sganciato appunto la bomba sul Giappone. Il personaggio di Robert Oppenheimer interpretato da Cillian Murphy è più pragmatico, non si capisce sino alla fine ciò che prova, ciò che pensa. Da una parte il lato dello scienziato che vuole a tutti i costi scoprire cosa potrebbe accadere una volta fatta esplodere la bomba, da un altro i dubbi perché sa che una volta ultimata la bomba verrà sganciata su persone innocenti, non solo militari. Queste due parti di Robert Oppenheimer vanno spesso a scontrarsi e non capiamo, Tino, alla fine, cosa pensa poi lui effettivamente della scelta di sganciare la bomba se è contro o meno questa possibilità. Louis Strauss è il personaggio appunto interpretato da Robert Downey Jr. che dirige questa accademia di scienziati per puntare ad altro. Lui ha sempre amato fare lo scienziato, però ha lasciato questo percorso per intraprendere quello politico. La parte che lo riguarda è tutta in bianco e nero, quasi tutte le volte che vediamo Robert Downey Jr., quindi è raccontata in bianco e nero per delineare i fatti e quella linea di racconto. In queste scene, alcune volte, compare anche Albert Einstein. La parte che riguarda Albert Einstein, che vediamo anche nel trailer dove Oppenheimer incontra lo scienziato a bordo di un laghetto, è quella che appunto chiude la pellicola. Ma ci ritorneremo alla fine del film perché appunto è uno dei punti che mi ha più colpito di Oppenheimer. Menzione speciale va alla parte dedicata al progetto Trinity, a quello dell'esplosione della bomba e la prima volta che è stata fatta esplodere una bomba atomica. Quel momento è il punto più alto, come dicevo in precedenza, della pellicola. Perché si sente tutta la tensione nonostante è storia, quindi sappiamo cosa ci riserverà il film, ma in quel momento la senti tutta la tensione, senti la tensione dei personaggi, riesci ad entrare nel momento, nell'istante del conto alla rovescia che ti porta al centro dell'esperimento. Durante tutto il film, quando ci sono le implosioni di prova, abbiamo questa esplosione che ti entra dentro lo stomaco, senti le vibrazioni, l'ho visto in una sala abbastanza ampia, quindi con un ottimo impianto audio. Quindi le esplosioni di prova che vengono realizzate nel deserto, le senti tutte, le senti proprio in pancia, senti che ti vibra anche il sedile. E durante tutta la pellicola pensi, e cosa accadrà quando arriverà l'esplosione della bomba? In realtà accade l'esatto opposto. L'esplosione in assoluto silenzio, in una sala quasi piena di gente e nessuno che tira un fiato. E neanche l'esplosione appunto arriva nello stesso istante, perché è così che funziona poi nella fisica, l'esplosione la percepisci qualche istante dopo che effettivamente avviene. La realizzazione dell'esplosione è stata veramente un capolavoro tecnico, perché la CGI presente nel film è quasi meno del 10%, e Christopher Nolan ha voluto realizzare tutto con effetti pratici, quindi ha messo in scena questa esplosione con esplosivi veri, tantissimi chili di tritolo, veramente più di 600 litri di benzina sono stati utilizzati per realizzare questa esplosione. C'era una voce che girava prima del film, che raccontava come Christopher Nolan avrebbe fatto saltare in aria un'intera isola per realizzare questa esplosione. Poi questa voce si è placata, quindi sembrerebbe che era stata solo messa in giro, però sarebbe da Christopher Nolan, insomma. Tornando alla pellicola, nel finale appunto ci sono dei colpi di scena che andrò a raccontare, quindi ragazzi, se non avete visto il film, io vi consiglio di correre al cinema e tornare immediatamente, perché è da vedere in sala, con la miglior sala che avete, o comunque al cinema, in quella più vicina, dovete per forza correre, andare a guardarlo, e poi tornare qui a commentare questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, adesso parlerò più nello specifico, cercherò di essere il più breve possibile, però vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram e YouTube, e continuare a guardare questo video se avete visto il film. Ciao a tutti! Partiamo dalla scena del lago che riguarda Oppenheimer e Einstein. All'inizio del film vediamo Oppenheimer che va da Strauss, perché vuole che Oppenheimer diriga la sua accademia per scienziati, diventandone il direttore. Tutto questo si svolge dopo l'esplosione e l'esperimento Trinity nel deserto, quindi dopo la prima esplosione della bomba atomica. Vediamo poi che Oppenheimer si avvicina ad Einstein, i due hanno un dialogo, e lo scienziato tedesco si allontana senza guardare in faccia a Strauss e senza rivolgergli la parola. Due o tre volte ritorna questa scena proprio dal personaggio di Robert Downey Jr. che domanda ai suoi addetti, ai suoi impiegati, che cosa gli avrà detto Oppenheimer ad Einstein, tanto da farlo alterare e piccare in quel modo da non rivolgergli la parola. Questa cosa la ritroviamo finalmente alla fine del film, perché durante gli esperimenti c'è stato un momento che i calcoli prevedevano che durante l'esplosione nucleare si sarebbe potuta realizzare una catastrofe, che l'atmosfera ricca di ossigeno si sarebbe incendiata e avrebbe di conseguenza bruciato l'intero pianeta. Solo al pensiero di questa scelta, nonostante l'1% di possibilità mi vengono in brividi, perché hanno comunque fatto esplodere una bomba atomica, nonostante sapevano di questo pericolo. Quindi, tornando al discorso, Oppenheimer ad Einstein si avvicina. L'ultima scena del film che ricorderò molto, per molto tempo, è Oppenheimer che si avvicina ad Einstein e gli chiede ti ricordi, Albert, quando ti ho portato i calcoli e c'era il pericolo di incendiare il pianeta? Einstein risponde, certo, me lo ricordo benissimo. E Oppenheimer, forse l'abbiamo fatto veramente. Un dialogo con una frase che è molto attuale, che ci riporta ai giorni nostri, perché il pericolo del nucleare, da quel momento in avanti, è sempre stato alla finestra, a guardare lo svolgersi degli eventi. Ad oggi, con la guerra in Ucraina, è attualissimo. Quindi la chiusura del film non è soltanto a livello storico, non si può soltanto dire applicare a quei giorni, ma anche a quello che sta accadendo tutt'oggi, perché Oppenheimer chiude il film dicendo sì, abbiamo dato fuoco al pianeta. Quindi già solo con quel finale, ragazzi, è memorabile. Su Torre di Film, quello è anche uno dei punti meglio realizzati della pellicola. Facciamo un passo indietro e dopo l'esplosione della bomba atomica, vediamo come, appunto, c'è un processo a Robert Oppenheimer, in quanto Strauss aveva organizzato quel processo, farsa, per tovagliergli il permesso, il nulla osta di sicurezza. Quindi lui non avrebbe più potuto accedere ai servizi governativi per realizzare armi o comunque progetti per il governo, in quanto si era, dopo aver visto la grande esplosione e i grandi danni realizzati dalla bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, non ha voluto partecipare al progetto della bomba, l'idrogeno, mille volte pensate più potente della bomba atomica, e quindi si è messo a fare scudo appunto alla realizzazione del progetto e Strauss, che era un personaggio politico un po' sulle sue, sempre rigido, non ha preso benissimo delle battute realizzate appunto da Oppenheimer nei suoi confronti e ha deciso di vendicarsi mettendo in scena delle forze e dei documenti appunto per screditare Oppenheimer riuscendoci inizialmente. Quindi quella parte finale con i 40 minuti in chiusura con un progetto che poi vediamo anche Reni Malek nel finale che spiattella tutto quello che è stato poi il piano di Strauss è veramente eccitante e tutto ad un fiato anche sono ragazzi i 40 minuti che volano quindi anche questo era da dire assolutamente. Florence più Gary Oldman non so se avete notato che c'era anche Gary Oldman nei panni del presidente degli Stati Uniti quindi insomma un cast d'eccezione un film gigantesco che ritroveremo molto probabilmente agli Oscar e che farà molto parlare di sé perché a parte gli incassi che risultano il record per un film vietato e meno di 14 anni è veramente clamoroso da andare assolutamente a guardarlo. Io ragazzi vi ringrazio ho cercato di essere il più breve possibile spero che questo video vi sia piaciuto e nonostante la corsa sia stato comprensibile. Io vi ringrazio ancora una volta per averci seguito fin qui ricordo ciaccazione su Facebook, Instagram e YouTube io sono Valerio Verrone buona giornata a tutti.